Coltivate l'umano, le relazioni, la parola data per fare un buon cittadino. Queste le parole del Vescovo Armando domenica 5 novembre nell'Omelia della Santa Messa in occasione della festa del Corpo di Polizia Municipale. Il Vescovo, rivolgendosi proprio al Corpo di Polizia Municipale, ha sottolineato in particolare il valore della responsabilità. A livello psicologico responsabilità significa capacità di conoscere, accettare e affrontare le conseguenze del proprio comportamento. Responsabilità significa tenere determinati comportamenti, cercare di conseguire dei risultati che per voi, Polizia Municipale, sono risultati nella legalità per il bene di tutti, consapevolezza certa dei propri doveri, supporto coscienzioso per qualcuno o qualcosa, per ideali valori e consigli da dare. Occorre responsabilità verso se stessi, verso i propri affetti, verso i propri colleghi e verso l'istituzione che si rappresenta. Ricordatevi, ha concluso il Vescovo, che sotto la divisa c'è sempre una persona, coltivate l'umano, le relazioni, la parola data per fare un buon cittadino. Al termine della celebrazione eucaristica è stata letta la preghiera del Corpo di Polizia Municipale di Fano a Nostra Signora della Speranza e a seguire il comandante Alessandro di Quirico ha voluto ringraziare il Vescovo Armando, tutte le autorità civili e militari presenti e i colleghi di lavoro che quotidianamente si mettono al servizio della città.